Una pianta antichissima diffusa in tutto il mondo capace di adattarsi ad ogni tipo di clima e terreno è stata la cicoria, la protagonista del convegno annuale della CIA sugli alimenti funzionali. Conosciuta fin dall'antichità sia come elemento sia a scopo terapeutico per i suoi effetti depurativi e benefici, la cicoria è ricca di vitamine C ed E, ha proprietà digestive, antivirali, antibatteriche, antitumorali, antiossidanti e drenanti. Dal punto di vista di spesa di coltivazione è veramente ridotta al minimo. È una pianta che ci evoca ricordi, tra virgolette, siamo cresciuti un po' pane e cicoria, per cui uno pensa alla cicoria dal punto di vista di un alimento amaro poco gradevole. È però la sua caratteristica primaria? È la sua caratteristica primaria che poi è quello che gli fa bene, ma la cicoria non è solo quel ricordo, nel senso che la cicoria, noi pensiamo a lei, alle punterelle, alla Catalogna, però ad esempio non pensiamo mai che un radicchio rosso è una cicoria, che il pan di zucchero è una cicoria. Esistono un centinaio di varietà che sono sempre delle cicorie. Ultimamente sta riscoprendo anche uno sbocco di mercato molto interessante che è quello degli integratori alimentari, perché la radice, soprattutto della cicoria, contiene questo principio attivo che è l'inulina, molto importante per quanto riguarda il discorso del benessere, e dalla cicoria si ottiene una farina che viene utilizzata adesso a sostituzione dello zucchero, per cui la ritroviamo in tutti i prodotti da forno, molto utilizzata ormai nelle diete cheto che stanno prendendo il sopravvento sempre di più, per cui proprio un utilizzo e una richiesta superiore a quello che possiamo immaginare. Il convegno organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Pesero Urbino si è svolto a Casal San Sergio a Fossombrone, grazie al contributo della Camera di Commercio delle Marche. Come CIA di Pesero Urbino vogliamo in qualche modo far sì che questa cultura entri anche nelle nostre aziende, nelle rotazioni culturali, possa avere uno sbocco sul mercato e possa essere un'integrazione di reddito per le nostre aziende in un anno molto particolare come questo, in cui tra l'alluvione, la siccità, le calamità e i prezzi dei prodotti è un anno molto difficile, per cui vediamo come per dare una speranza e una possibilità di qualcosa di nuovo.